Un cordiale buon pomeriggio ma soprattutto buona domenica, continua il magic moment dell'Ippodromo di Agnano grazie anche a questa temperatura meravigliosa, cielo soleggiato, caldo e tante iniziative abbiamo avuto questo mercatino che veramente ha dato tante soddisfazioni e tanti bambini qui davanti alla mia postazione gremiscono le tribune dell'Ippodromo di Agnano e quindi l'aria di lotteria continua una Maiden alla catalano posso dire qualcuno si toglierà questo tipo di Maiden sono tre anni, sette, miglio, mezzo meccanico in movimento Ulrica il 5 di Uval, Luna e Uliani partono piano rientra bene Ulula Jet nei confronti di Uruk del Ronco Cavaliere all'attacco della piegata, i due perfettamente apparigliati si va al completamento del lancio in tredici e nove e i due sempre a borbottare, insiste Uruk con Mario Minopoli risponde Antonio Di Nardo e la sua Ulula Jet si completa la piegata e anche i quattrocento in ventinove e tre e ora va a miti consigli, poi galoppa il francesino e così Urso è in seconda posizione a precedere il 5 Uval fuori corsa l'uno di Uliana sposta e viene via deciso Uval 45,7 da 1,16 e mezzo e l'allievo di Sabato Di Vincenzo si trascina Ulrica S due pariglia al completamento del mezzo miglio iniziale mezzo miglio che se ne va in 1,2,16,3 di frazione cavalli che affrontano il penultimo rettilineo con Uval alle prese, con Ulula galoppa il 6 di Urso ci va a timbrare il chilometro per la categoria niente male 16,8, 14,8 di frazione si prepara Lomino con la sua S nella scia di Uval di Etria cavalli che affrontano la curva finale 400 alla meta, quindi a 14,6 fanno 1,31,4, i tre quarti di miglio passa Uval ma incombe la Igor Font di Di Luongo retta d'arrivo con Uval che è passato inseguito dall'Igor Font dell'Omino ci prova Lomino, ci prova e ci crede i due alle prese, lotta incerta i cavalli sono in zona traguardo la lotta è incertissima e sul palo proprio Lomino con il numero 7 Ulrica batte il numero 5 di Uval 2,2, 1,16,2 la vince proprio lui Vincenzo Luongo la vince proprio lui, proprio sul palo stampa un Uval di Etria veramente incombeabile questa GS foto di sabato di Vincenzo per il terzo Urania Jet numero 2, 7,5,2 Ulrica A.S. ventola vecchi colori Carlo Terracino il training ma in sal che c'è lui Lomino, 7,5,2 l'ordine d'arrivo probabile linea allo studio